Grazie per essere qui in questo momento, accertare le parole che non potete, per esprimere ciò che si trova, in quanto in realtà ci sono parole, ma solo la colore. Questo frangente sul mondo tutti noi, genitori, amici e come colleghi della vita, a cui tu eri un modifesco, che sarà con una rete duro, convivere, convivere in questo momento, ci mancherà più di te, il tuo soprizio, la tua voglia di vivere, il tuo carattere capaglio e anche il tuo percorso, che ti hanno portato a raggiungere un grande trattamento di soddisfazione, traguardi personali e la volontà. Niente può essere paragonato ai bellissimi pochi che abbiamo preso e che riguardano i rifiuti in una parte della nostra vita. Ora che sei nella casa del Signore, veglia su di noi, e in particolar modo, sul tuo papà, per i quali eri e sarai segno a fronte di grande orgoglio e soddisfazione. Dai loro la forza per poter superare questo immesso colore. Ciao Sabino, ti volviamo a vedere, ti chiedevo a vedere. Grazie. 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 Grazie.